Oggi stamattina sono usciti, guardate c'è stato Blogfest, i premi, i TA 2013, Twitter World 2013 allora signori io sono stato battuto, purtroppo ho vinto, ho vinto un premio come miglior celebrità che è già essere celebrità, miglior account fake, parodia, casaleggio perché è il numero uno eccolo qua, migliore celebrità, poi c'è miglior giornalista su Twitter 2013 Andrea Scanzi e lì ci avrei qualche, vabbè, miglior account a tema cucina giallo zafferano vedete, Matteo Renzi vince, miglior account a tema politica, Sky Sport, vabbè spinosa.it tutti d'accordo tranne uno